Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io, senza molti giri di parole, inizio introducendovi Giuseppe Bertuccio D'Angelo, fondatore del progetto Happiness. Allora, buongiorno a tutti. Come vedete, noi oggi siamo qua per raccontarvi una cosa complicatissima. Verso un futuro sostenibile, visioni e soluzioni per il domani. Giuseppe, già lo conoscete? Nel mio caso non credo, io mi chiamo Matteo Giulietti e sono il fondatore di un'agenzia, una talent agency, che si chiama FACE. Che è un'agenzia che è nata qualche anno fa con l'obiettivo di mettere sotto lo stesso cappello tutta una serie di persone, di personaggi che nel loro quotidiano da anni e quindi poi sui loro canali di comunicazione si impegnano per portare avanti delle battaglie di attivismo e di divulgazione su questi temi. E, fortuna o sfortuna, poi questo ce lo racconterà Giuseppe, ha voluto che più o meno tre anni fa Giuseppe sia entrato a far parte della squadra di FACE. Quindi oggi, con una chiave che potrebbe suonare, forse anche un po' narcisistica, se vuoi, sono l'agente di Giuseppe che intervista Giuseppe. Quindi voi penserete, questi hanno concordato le domande, lui sa tutto, entra nella comfort zone, facciamo i nostri 50 minuti di chiacchierata e ce ne andiamo. Ma in realtà non è così. In realtà Giuseppe non sa nulla e io l'ho portato qua dicendo che ci saremmo trovati di fronte a un sacco di gente giovane, di gente a cui potevamo portare un contributo figo e oggi abbiamo due obiettivi. Il primo obiettivo è che io, appunto, ho avuto, mi sento di dire, forse, la fortuna di conoscere Giuseppe in questi anni. E una cosa che gli ho sempre criticato è che Giuseppe non emerge dal progetto happiness. Cioè Giuseppe è molto più figo del progetto happiness. La storia del progetto happiness, se conoscete la storia di Giuseppe, se già vi appassiona, vi appassionerà ancora di più. Quindi il primo obiettivo di oggi è scavare dietro il personaggio che sta già arrossendo, è scavare dietro Giuseppe e scavare dietro il progetto happiness e cercare di fargli raccontare Giuseppe. E il secondo obiettivo qual è? Cioè perché noi siamo qua pensando di poter parlare di sostenibilità con scarso titolo? Perché io credo che la storia di Giuseppe sia una storia abbastanza esemplificativa, nel senso che sia io sia lui siamo millennial, quindi ormai over 30, ormai ex giovani, i millennial sono forse l'ultima generazione degli insensibili verso il pianeta o la prima generazione delle persone che un minimo ha detto forse sta roba è importante. E secondo me la tua storia Giuse è la storia di una persona che questa consapevolezza è andata acquisendola nei viaggi, con le cose che hai fatto, con le scelte di vita che oggi percorri nel tuo quotidiano e che loro non sanno. Quindi fate un altro applauso per Giuseppe e adesso lo raccontiamo. Ho delle domande scritte. Penseranno veramente che sia tutto organizzato ma io veramente non so nulla. E questa cosa mi esalta perché con Matte siamo diventati amici e quindi mi sembrava un'ottima idea fare questo gioco perché secondo me abbiamo la possibilità di fare una bella chiacchierata che può dare spunti interessanti soprattutto sul tema di questo evento. Quindi anzitutto grazie mille per essere qui con noi e godiamoci insieme questa chiacchierata che non so dove andrà a finire. E quindi Giuseppe, prendendo in prestito un po' quello che è l'intro del format One More Time di Luca Casadei, io ti chiedo di dare un minimo di contesto sull'inizio, sul piccolo Giuseppe, dove nasci, la famiglia, giusto? Vai, raccontaci. Partiamo dal sovrappeso, partiamo dal fatto che le mie sorelle volendomi bene mi chiamavano Palla di Lardo, quindi iniziamo un bel body shaming, no però vabbè era divertente per loro. Sono nato a Lecco, tu lo sapevi? No, pensavo giù. Allora io a me piace dire sempre di origini, forti origini siciliane perché i miei genitori, tutta la mia famiglia è siciliana, però poi i miei genitori si sono trasferiti al nord e io sono nato a Lecco, sono soltanto nato a Lecco, mia madre ha deciso di farsi 200 km in macchina, spararmi fuori, nato a Lecco e poi ho vissuto praticamente tutta la mia vita tra Sesto San Giovanni e un paesino di 2000 abitanti della Sicilia. E quindi penso anche a quella che è stata la mia infanzia, magari l'infanzia di molte persone della nostra generazione, ti chiedo secondo te la parola sostenibilità che 30 anni fa quasi non esisteva, cioè non si utilizzava, il concetto c'era ma la parola non era così abusata. Secondo te la tua famiglia in qualche modo, da qualche angolo ti ha iniziato a sensibilizzare su questa cosa e se sì come, dove? Sicuramente, perché i miei nonni hanno sempre avuto la campagna, mio padre ha sempre avuto la passione, più che passione era una missione per coltivare, per rispettare la campagna, quindi i doni della natura e quindi me li hanno tramandati in qualche modo. Ero costretto in realtà da piccolina ad accompagnare mia nonna in campagna. Ogni volta che andavo a passare tre mesi con lei in Sicilia, le facevo compagnia e anche con mio padre, quindi lì ho imparato ad apprezzare i doni veramente della natura e secondo me il mio percorso attraverso il rispetto per l'ambiente, la natura e il nostro pianeta parte da lì, parte dalle mie radici appunto siciliane. Quindi parte dalla nonna, dalla mamma, dalla campagna, diciamo così. Quindi salito a Lecco un po' meno, credo, un po' più città, un po' meno campagna. Non ho mai vissuto a Lecco, ma sì, a Sesto mi trovavo in un gigante di cemento, non mi sono mai sentito a mio agio dentro la città, mi sentivo veramente in Gambia. Ho sempre pensato da piccolo, non so se ti è mai capitato, quando passavo tanto tempo in campagna, per esempio, quando tornavo anche nel paesino e vedevo l'asfalto sulla città, pensavo, cavoli, quanto sta soffocando la terra. Perché quando ti abitui a vedere il terreno, il suolo, gli odori della natura, poi quando vai in città non esistono più, vengono resettati, vengono annientati dalle costruzioni, dall'uomo moderno. E avevo una sensazione di sofferenza quando mi rimettevo in città. E questa cosa l'ho portata anche nella mia crescita, soffro sempre quando entro in una città grande. Quindi tu, ragazzino, bambino, anzi, trapiantato in città, inizia a frequentare le scuole elementari, le medie, le superiori, con questa tua nuova veste. Io lì volevo arrivare. Volevo dire, tu che studente eri? Ma ero veramente, la mia vita è stata semplice, banale, mettiamola così, fortunatamente banale. E qui sfatiamo un mito che forse in tantissimi si chiedono, in tantissimi mi chiedono su Instagram, ma tu ricerchi la felicità perché non lo sei? Perché non sei felice? Io sono sempre stato sereno, felice, amato, coccolato, da una famiglia straordinaria, ho sempre avuto tutto. Durante gli anni ho cercato di anche autoanalizzarmi, cercando di capire perché avessi questa spinta verso l'avventura, verso l'ignoto, verso il pericolo, alcune volte. E in realtà credo proprio per questo, perché ho sempre avuto una vita agiata, comoda, sicura, protetta, avevo bisogno di espormi alla vita. E quindi con gli anni sono andato verso quella direzione, ovvero avevo bisogno di adrenalina, avevo bisogno di sentirmi vivo, avevo bisogno di scoprire. E un'altra analisi che mi sono fatto è perché mi piace viaggiare così tanto. Beh, perché la mia famiglia era comunque una famiglia, lo dico con orgoglio in realtà, è una famiglia comunque modesta. Non c'erano i soldi per fare una vacanza di famiglia e quindi io l'unica cosa che potevo fare era andare giù da mia nonna e passare l'estate con lei. Però la mia fantasia era troppo fervida, quindi mi immaginavo grandi viaggi, grandi avventure, ma attraverso i documentari. Ero innamorato dei documentari, ero innamorato dei racconti di Piero Angela, Alberto Angela e i film di avventura. Quindi io sognavo con loro, però soltanto nella mia mente, non potevo permettere, non potevo chiederle ai miei genitori. E quindi crescendo è diventata una missione di vita. Io volevo diventare l'eroe di quei film, volevo diventare il reporter di quei documentari. Ed è per questo che oggi siamo qui forse. E secondo te, il fatto di venire da una famiglia umile, modesta, chiamala come vuoi, normale, senza particolari agi, in che modo ti ha aiutato poi a costruire il progetto che hai costruito, a essere la persona che sei, forse a guardare anche il mondo, non lo so, dal tuo angolo? È una bella domanda, perché nella mia famiglia era tutto, doveva essere tutto guadagnato. Niente era dato per scontato, niente, nulla. In maniera naturale però, mio padre non era, non è e non era un militare, però era una persona comunque ferma. E quindi qualsiasi cosa che mi veniva concessa era guadagnata. E quello è stato un addestramento durante tutti gli anni della mia infanzia, della mia adolescenza. E ho sempre visto che tutto ciò che avessi me lo fossi guadagnato. E questo me lo porto anche, credo che io sia arrivato a creare un lavoro dei sogni per me, il lavoro dei miei sogni, con la determinazione che mi ha passato questa educazione. L'educazione di non dare nulla per scontato. E ti dico, io che appunto conosco Giuseppe, che lavoro con Giuseppe da poco, ma ormai da qualche anno, ti dico che secondo me questa cosa è una grande fortuna. È una fortuna perché le persone che hanno faticato tanto, e tu sei una persona che magari poi ci arriviamo, ma ha faticato tanto, ha lavorato duro, si è impegnato sodo. Le persone che hanno faticato tanto, ma che hanno fatto tanti gradini per arrivare in alto, è raro che si dimentichino del gradino da cui sono partite. Io questa cosa la vedo soprattutto nella cordialità, nel rispetto che secondo me tu hai verso le altre persone e che trapela poi dal progetto Happiness e trapela dal modo in cui tu ti interfacci con tutte le persone ben più umili delle tue origini che trovi in giro per il mondo. Ti ritrovi in questa cosa? Sì, assolutamente sì, e anche questo è un principio che mi hanno trasmesso i miei genitori. Mi hanno sempre insegnato che da qualsiasi persona puoi imparare. E quindi parto sempre da questo presupposto, anche quando magari per arroganza, alcune volte pecco di superbia, magari mi trovo davanti a una persona per la quale non ho tutta questa stima, cerco di concentrarmi sul fatto che anche da lui posso imparare. Anche se non è la persona con cui passerei ore, anche da lui posso imparare. E quindi io ti ringrazio in realtà per questi complimenti che mi stai facendo che non mi hai mai fatto. Quindi ti ringrazio, però veramente devo tanto ai miei genitori. Però visto che ti ho fatto un complimento, ti riporto, con i piedi a terra, hai svicolato il Giuseppe Studente. Io ti chiedo di farci una carrellata molto veloce dell'evoluzione del Giuseppe Studente, che poi per voi saperlo, lo leggo, a un certo punto si laurea in Marketing e Comunicazione Aziendale e Mercati Globali. Così mi hai detto perché io tuttora fatico a crederci. Bravo, bravo. No, neanche mia madre ci credeva, ma adesso ti spiego il perché. Vabbè, elementari, classico bambino, elementari medie, bambino dotato che non si applica. Credo che fossi iperattivo, non avessi tanta voglia di stare sui libri. Volevo la vita vera, volevo sporcarmi. Superiori diventa ancora più complicato perché, sai, cresci e incominci a scoprire la vita. In quel periodo giocavo anche a calcio, il mio sogno era diventare un calciatore, ero un portiere. Giocavo nel vivaio dell'Inter e quindi io pensavo che potessi andare verso quella direzione. Poi mi faccio male e incomincio a non performare, mettiamola così, come prima e capisco che forse questo sogno non si avvererà mai. Però me lo ricordo non con un grosso dispiacere perché capivo che forse la spinta, la mia curiosità era fuori dal calcio. Il calcio mi stava limitando. Io ero uno sportivo veramente eligio, non uscivo, non bevevo, vivevo soltanto per il calcio, mi allenavo tutti i giorni. Una volta mollato il calcio è rimasta quella disciplina. La disciplina è qualcosa che ritorna sempre, ritornerà spero in questo racconto. E capisco che però il mio foco più grande è la scoperta, la scoperta del mondo che non ho mai visto, non ho mai vissuto, non ho mai toccato. E a 16 anni convinco mio padre a farmi partire per Londra, questa non la sai, a farmi partire per Londra per fare il bagnino. Soltanto che io trovo il lavoro online, non so neanche io come abbia fatto, mi hanno mandato un contratto firmato online per fare il bagnino a 16 anni nelle campagne di Oxford. Arrivo lì da solo e non c'era niente, era una pozzanghera, dovevo fare il bagnino per una pozzanghera e quindi io scappo, letteralmente scappo e finisco a Londra a fare il lavapiatti. Aspetta, quindi bagnino un giorno? Un giorno. Letteralmente un giorno. Chiamo mio padre piangendo dicendo, io sono qui disperato, non so neanche dove sono. Mi fa prova, prova un giorno. Dopo un'ora ho detto, no guarda, fidati, non posso stare qui perché io ero andato lì per migliorare il mio inglese, ma non c'era nessuno con cui parlare perché faceva freddo e non c'era neanche la piscina. Non lo so perché mi avessero chiamato, però scappo. Vado a Londra e faccio il cleaner, anche questa non l'ho mai raccontata. Faccio il cleaner da Nandos Canary Wharf. Non so se avete mai sentito parlare. È una catena che non esiste in Italia, esiste a Londra e non so dove. Dove fanno polli allo spiedo. Io dovevo passare full time tutto il mio tempo a pulire la cucina e a aprire letteralmente i polli congelati con le mani. Adesso può sembrare una cosa quasi divertente, simpatica o brutta, ma in realtà mi ricordo il dolore quasi lancinante per aprire. I polli sono così, mi dispiace. Io non mangio più carne, quindi vabbè ve lo racconto, però questo è il mio passato. I polli erano congelati, erano così. E io dovevo passare tutto il giorno ad aprirli, però mi si congelavano le mani. Tutto il santo giorno a fare questa vita col minimo sindacale, però ero felicissimo, felicissimo. Mi mettevo la musica dei Gypsy King mentre lavoravo e cantavo, ballavo, pulivo. C'era una puzza incredibile. Pensate, è come se avessi lavorato da McDonald's, però con la specialità dei polli. E prendevo il minimo sindacale, però mi sentivo che stavo veramente vivendo la vita. Mi ero esposto, stavo diventando grande, avevo i miei soldi, potevo permettermi di andare verso la vita che desideravo. E quel è stato il primo passo che mi ha fatto assaggiare, chiaramente l'indipendenza, l'autonomia anche economica e il viaggio. E da lì, secondo me, si è accesa una scintilla. Poi io, chiaramente, mi sono diplomato con il massimo dei voti, 69. Pensate, che maledetti. Me l'hanno fatto apposta i professori. Perché ai tempi, pensate quanto loro pensavano che io potessi fare, mi hanno messo 69... Non ero un grande studente, l'avete capito, credo. Mi hanno messo 69 per non permettermi di partecipare ai bandi pubblici. Cattiveria. Sì, e io, era il mio sogno, capisci? E invece non l'ho potuto fare. Cioè il tuo sogno era il posto fisso col bando pubblico. Posto fisso, posto fisso era il mio sogno. No, scherzo, quello non l'ho... Questo è un altro punto, che spero che magari ci siano le tue domande. Ero veramente spaventato dal posto fisso. Perché i miei genitori erano il posto fisso. I miei genitori erano, diciamo, la vita più equilibrata possibile. Posto fisso, famiglia. E io, avendo la fortuna di averceli come sicurezze e certezze, scappavo da quello. Quindi sicuramente del 70 non mi interessava nulla. Nonostante i miei professori mi avessero detto che io non potessi fare l'università, perché non ero abbastanza dotato. Non so se è successo a qualcuno di voi, però a me sembra qualcosa di terrificante da dire a un ragazzo di 17 anni, 18 anni. Mi sono iscritto all'università. Scegliendo marketing perché io odio la matematica. E quindi ho cercato di scegliere qualcosa che mi potesse dare un lavoro redditivo, con meno matematica possibile. È andata male lo stesso perché c'è la matematica. Ma mi sono laureato. Mi sono laureato non in tempo, in quattro anni. Però abbiamo tempo di dirti una roba... Sì, c'è tempo. Tu vai, vai. Io vado. In caso ti freno. Voi avete tempo? Vi dico una chicca che questa veramente la sa soltanto la mia famiglia. Allora, mi sentivo in colpa per essermi laureato così in ritardo. E anche qui ritorna la disciplina, il fatto di guadagnarsi tutto. Io quella Laura non me l'ero guadagnata. L'ero riuscito a ottenerla attraverso sotterfugi, bigliettini. Si possono dire queste cose a loro? Si devono, si devono. Ogni tanto, raramente, ho copiato. È la verità. E quindi non sentivo di essermela meritata. E quindi volevo celebrare i miei genitori. E non ho detto nulla a loro. Per anni io continuavo a dire che io venivo bocciato ad ogni esame. Mio padre che diceva, ma vai a lavorare. Cioè, basta, mi stai facendo buttare i soldi. Il giorno della Laura, con l'aiuto delle mie sorelle, abbiamo fatto credere ai miei genitori che mia sorella avesse vinto un premio come giornalista. Perché mia sorella è una giornalista. Sono la pecora nera della famiglia. Ovviamente loro si sono laureate con 110 lode, ho due sorelle. E sono venuti i miei genitori a vedere questo premio, ma in realtà era la mia laurea. E quando ho dato la tesi ai miei genitori, stavano svenendo. Te lo giuro. Mio padre si è appoggiato al muro, mia madre è sbiancata e non è stata una bella sorpresa. Mia madre mi ha odiato. Perché, come da buona terrona, lei voleva festeggiare, le voleva prendere le bomboniere, le voleva portare tutti i miei amici, tutti i parenti. I parenti da giù. Cioè poi i parenti da giù, una roba importante. Poi chi mai avrebbe scommesso un centesimo sulla mia laurea? E quindi voleva celebrarlo. E invece è andata molto male. Però, spoiler alert, ho ritrovato la voglia e il piacere di studiare, senza bigliettini, e voglio, anzi mi sono iscritto a un corso di laurea in antropologia. E quindi vorrò, questa volta glielo dirò prima, sperando di riuscire. Ora, questo è un tema che magari poi lo recupero. Perché, anzi, te lo chiedo subito. Per come ce l'hai raccontata, è come se tu durante il percorso di studi non ti sentissi in missione per studiare, no? Era un riempitivo del tempo in attesa poi di trovare la vita un po' più dinamica che stavi cercando e che persino spezzare polli ti dava più di studiare. Quando è che ti rendi conto, quindi andiamo avanti nel tempo e poi torniamo indietro, quando è che ti rendi conto dell'importanza di studiare e perché ti rendi conto di sta cosa? Purtroppo non all'università. Ho finito l'università semplicemente perché rispettavo il fatto che i miei genitori me la stessero pagando. Ma io avrei mollato. Io avrei mollato l'università. Io volevo viaggiare, volevo fare il giro del mondo. Era già il mio sogno. Però ho detto, ok, voglio fare il giro del mondo, me lo devo meritare. E quindi mi sono messo e ho finito l'università semplicemente per non avere il senso di colpa e dire ai miei, ok, io mi sono laureato adesso con i miei soldi perché durante l'università lavoravo come commesso in vari negozi di abbigliamento, come bagnino, ogni tanto questa volta c'era la piscina e quindi avevo già i soldi da parte. E quindi una volta presa la laurea io sono partito con i miei soldi, i miei risparmi. Però purtroppo non ti posso dire che a un certo punto della mia carriera universitaria abbia capito, wow, che figo studiare. Perché non stavo studiando quello che mi appassionava. E quando l'hai capito? Cioè quando hai capito che studiare poteva essere una cosa che ti arricchisse per il progetto Happiness come persona? Con il progetto Happiness. Perché finalmente ho capito ciò che mi appassiona, ciò che mi emoziona, mi stimola. A me piace scoprire tutte le sfumature dell'essere umano. Le culture, le tradizioni, le lingue, il perché. Una città, anche l'architettura che in realtà è legata alla storia, che è legata alle colonie. Mi interessano gli intrecci della storia, gli intrecci dell'umanità. E questo sì che mi appassiona. E leggo tutte le volte che mi preparo per un viaggio compro i libri su quell'argomento, su quella città, su quel paese e me li divoro adesso. Però se tu oggi potessi prendere per un orecchio o dove preferisci tu il Giuseppe, studente universitario, che magari è anche alter ego di qualcuno che c'è in platea, cioè cosa gli diresti? Gli diresti rifai tutto uguale o gli daresti magari un punto di vista diverso su come studiare o su che importanza dare a quello che stava facendo? Devo veramente scavare nel passato perché queste cose non le ho mai neanche raccontate, però sono pensieri molto chiari dentro di me. Io ho scelto marketing non perché mi piacesse, ma perché pensavo che mi potesse dare un lavoro redditizio, come ho detto prima, quindi uno stipendio dignitoso. Ma quello è stato l'errore originale, ovvero scegliere una carriera universitaria semplicemente per una questione economica, un'idea di benessere o tranquillità economica. Perché se io avessi voluto fare ciò che mi piaceva veramente o comunque che pensavo potesse piacermi, avrei fatto psicologia, sociologia, antropologia, non ce l'avevo neanche in mente in quel periodo. Però ascoltando i pareri dei più grandi, tutti mi dicevano, ma sociologia, spero che in realtà... Tu, sociologia? Cosa? Turismo e la sociologia? Fantastico. No, però in realtà l'avrei fatto, l'avrei dovuto fare. Quello è stato l'errore. La domanda qual era? No, la domanda era, ma hai già parzialmente risposto o anche totalmente risposto, cosa gli avresti detto, no? Al Giuseppe che in quel momento non sapeva cosa fare. Sì, ehm... È la studia quello che ti piace, cioè cerca di capire cosa ti piace. Sicuramente poi, con passione, con dedizione, con determinazione, con sacrificio, con coraggio, tante cose, puoi trovare la tua via, la tua strada, il tuo lavoro. Non c'è bisogno di fare per forza qualcosa legato, per esempio, all'economia, semplicemente perché è legato ai soldi. Però prima di fare... Prima di partire per il mio primo giro del mondo, perché in realtà... No spoiler, no spoiler. Ok, perché in realtà era una persona totalmente diversa, totalmente... E allora entriamoci subito, perché anche questo è un tema che ho scoperto di recente. Cioè, Giuseppe si laurea, nei modi e nei termini che ci raccontava, e poi a un certo punto, dimmi tu più o meno a che età, però immagino subito dopo la laurea, con i soldi messi via, con tutti questi lavori occasionali, parti per il tuo primo giro del mondo. Dove però quasi non ci sono i social, o comunque non ti interessano, di filmare non era nemmeno una cosa esistente. Perché parti? Cioè, perché? Ok, faccio un passo indietro, sperando di non spoilerarti le altre domande. Ti devo raccontare come ero prima, e perché poi... Allora, vi ho raccontato che io lavoravo in negozi di abbigliamento. Quindi, guardandomi adesso, ero un ragazzo molto superficiale, molto concentrato sull'apparenza personale e delle altre persone. Quindi, tutti i soldini, i primi risparmi li spendevo in vestiti, in abbigliamento. E i soldi che mi stavo mettendo da parte per anni erano per una bella macchina. Quante ore ho passato a guardare l'Audi TT. Che se ci pensa adesso, mamma mia, che tamarro. E quindi ho buttato ore a concentrarmi su queste cose. Poi, a un certo punto, quando ho capito che era sbagliato, non ero io, non ho più comprato nulla, ho smesso di guardare le macchine su seconda mano, e ho risparmiato centesimo dopo centesimo per il mio giro del mondo. Quindi io sono partito, e questo è anche un simbolo di come sono partito e poi come sono tornato, sono partito con uno zaino pesantissimo, con tante magliette, tante felpe, tanti jeans. Il giro del mondo con un armadio sulle spalle. Dopo un mese ho capito. Dopo un mese ho capito che tutto quello che avevo era superfluo, era pesante. Quindi mi sono alleggerito e ho regalato tutto quello che avevo in India. Ho regalato vestiti, magliette, cose che qui tenevo, che pensavo fossero importanti per esprimere la mia personalità. E durante il viaggio ho capito che in realtà avevo bisogno di una maglietta, di un pantalone e del viaggio. Il viaggio mi serviva per espormi alla vita, a tutte le difficoltà, a tutti i problemi che avrei dovuto risolvere. Io li ho chiamati, in una chiacchierata che ho fatto, li ho chiamati autotrappole. Perché in realtà non ero pronto per vivere quella vita. Però se non mi fossi esposto, mai l'avrei imparato. Non ero determinato, non ero coraggioso, non ero dedito al sacrificio. Però attraverso il giro del mondo, in cui me ne sono successe di tutti i colori. Perché, come dicevi tu, il mio budget era ridicolo. Aspetta, scusa se ti interrompo. Però qua io mi sono addirittura segnato una citazione che tutti voi potete trovare nel primo video mai pubblicato sul canale del progetto Happiness, che era al tempo il video introduttivo del progetto Liminis. Però c'è, c'è ancora. C'è questo video. C'è. È il tuo primo video. Ah, ah. Dura due minuti e tredici. Ah, pensato... No, 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 c'è, c'è, c'è. Ok, va bene. In questo video tu dici la seguente cosa, che riassume il tuo viaggio, così poi magari ti do degli spunti. Dici, ho meditato con i monaci buddhisti. Vero. Recitato in un film di Bollywood. Vero. Ho girato l'Australia con un camioncino hippie. Insegnato equitazione in Alaska senza aver mai montato un cavallo e tatuato un cimitero sul braccio di un ragazzo del Bronx. Confermi tutto. Confermo, confermo. E questo era il primo giro del mondo. Primo giro del mondo. Che non ho mai raccontato perché non era mio interesse. Non avevo i soldi, avevo Facebook, ma non lo usavo neanche. Avevo un blog perché mia sorella mi aveva spinto, consigliato a scrivere. Che c'è ancora, però ho nascosto. Ho fatto tutte queste cose e tante altre. Quindi immaginati che grande avventura per un ragazzo che non era mai uscito praticamente dall'Italia. Avevo visto chiaramente le maggiori capitali europee, però io non ero mai uscito da, sai, il circuito turistico europeo. E tra l'altro questa è più o meno l'ultima stagione che precede lo sbarco sui social, diciamo di qualche anno. Però a me questa stagione mi interessa molto, perché secondo me è la stagione in cui alla fine inconsapevolmente tu semini, almeno dentro di te, e provi delle sensazioni che poi probabilmente qualche anno dopo ti faranno dire cavolo, è una cosa che io voglio raccontare. E siccome uno degli obiettivi di questa chiacchiera era da non dimenticarci, era dare dei consigli per un futuro più sostenibile, e io ti sto usando come esempio di possibili spunti, non di consigli, io ti chiedo, ma questo viaggio, che non mi ricordo quanto è durato, anzi dimmelo, cioè che cos'è che ti ha lasciato dentro? Cioè tu dicevi, ho regalato i vestiti, sono partito caro una persona, sono tornato forse caro un'altra. Rispetto alla parola sostenibilità, ambientale, sociale, qualsiasi cosa essa sia, quali sono le immagini che ti ricordi, degli esempi, delle cose che ti hanno proprio tirato un pugno in faccia e ti hanno fatto dire io non ci avevo capito niente di sta cosa? Beh, in realtà è molto cliché, però è successo quasi tutto in India, perché il mio desiderio quando sono partito era girare il mondo per sempre, io volevo viaggiare per sempre e lavorare... Buon piano. Buon piano, vero? Responsabile, tra l'altro. I miei genitori erano disperati, però poi adesso ci hanno fatto l'abitudine, fortunatamente, mi vogliono bene. Io volevo viaggiare per sempre e quindi avevo raccontato a mia madre che sarei stato via però un anno per non farla preoccupare, ma non era mia intenzione. Soltanto che mia sorella ha preso questo come legge scritta certa e ha deciso di sposarsi esattamente dopo 360 giorni dalla mia partenza. Io disperato, e loro felicissimi, perché mi hanno detto, cavolo ti stiamo aspettando. Però quella è stata la svolta, perché io stavo viaggiando fino a quel momento un po' come un vagabondo, senza una meta, mi stavo godendo il mondo, però non c'era quella deadline, quella data di scadenza che mi facesse apprezzare tutto. Io sapevo che avevo tutta la vita davanti per viaggiare. Quindi da quando mia sorella mi ha dato quella data di scadenza, che era il suo matrimonio, ho incominciato a viaggiare con più consapevolezza, con più passione. E in India sono successe delle magie in realtà che mi hanno stravolto la vita. Per esempio il Vipassana. In realtà ho detto monaci buddhisti per semplificare, non c'entra molti, cioè c'entra perché è la meditazione che ha utilizzato Buddha per raggiungere l'illuminazione. Quella sì mi ha stravolto la vita perché ho compreso in 11 giorni, la meditazione che vi passano sono 11 giorni senza, dentro un monastero, senza poter parlare, quindi non puoi parlare con nessuno, nemmeno con te stesso, che sembra una banalità, però dopo un po' di giorni che non parli ti viene voglia. Mangiando due volte al giorno e meditando 11 ore al giorno. Non avevo neanche mai meditato in vita mia. Quindi ero un po'... mi piacevano le sfide. E sono uscito da lì, mi ricordo ancora, adesso arriviamo alla sostenibilità, però questo è bello perché parte tutto da lì. Mi ricordo che l'undicesimo giorno la prima parola che ho detto è stata grazie perché mi hanno regalato un dolcino da mangiare e mi è vibrata dentro così forte che mi è venuto da piangere perché era la prima volta che sentivo, percepivo la mia voce, la bellezza di poter parlare. E lì ho capito che avrei voluto una vita doveva essere un libro, doveva essere una grande avventura, il film che avevo visto tante volte, doveva essere la mia vita. E da lì l'ho vissuta, come ti dicevo, con grande passione. E questa passione mi ha portato poi a vivere per un mese con una comunità all'interno della foresta pluviale indiana con la missione di riforestare tutta la foresta che stava scomparendo per l'erosione del terreno. E lì si è riacceso di nuovo l'amore che mi aveva infuso mio padre, mia nonna, la mia famiglia, verso la terra. E credo che quello sia stato proprio il mattoncino, il tassello che mi porto tuttora verso il rispetto della natura. E ho passato lì un mese imparando come coltivare, come piantare gli alberi e tante altre tecniche. Si chiama, se volete dare un occhio, era... Sì, la comunità si chiama Oroville. È un posto assurdo, assurdo, surreale. Avrei voluto fare un documentario su quello però non fanno entrare le telecamere. Se date un occhio su Google non ci credete. Sembra un luogo, sembra Stargate. Dentro questa comunità che era un esperimento sociale in cui valeva soltanto il baratto, in cui venivano... C'erano tutte le persone da tutto il mondo. C'è una palla d'oro nel quale si medita tutti insieme. Date un occhio che si chiama Oroville. E io ho passato lì un mese nella foresta... Sadana Forest a piantare gli alberi. Quindi possiamo dire che questo, di cui ovviamente io non avevo idea, tu lo etichetti come un momento della tua vita o il momento all'interno di quel viaggio in cui hai vissuto probabilmente in connessione con altre persone che non conoscevi, tutte indirizzate verso lo stesso obiettivo che poi era un obiettivo di preservazione e lì piano piano il Giuseppe che prima puntava l'auto, si comprava gli abiti, che aveva già dismesso un po' di cose, inizia il suo percorso di maturazione. Quindi mi viene da chiederti, e poi il tempo inizia a essere tiranno, quindi dobbiamo entrare anche sul progetto Happiness. Però mi viene da chiederti, come prima ti ho chiesto quanto oggi riconosci l'importanza della formazione? E se dovessi dirlo a qualcuno di più giovane, perché ormai ne facciamo discorsi da anziani, ma se dovessi dirlo a gente più giovane mi hai risposto. Allo stesso tempo, oggi, che è una stagione in cui secondo me c'è sempre un confine un po' sfumato tra chi fa le cose perché le vuole raccontare sui social e chi come nel tuo caso, perché al tempo i social non te ne fregava nulla, le ha fatte per sé. Oggi, secondo te, quanto è importante fare un viaggio o fare delle esperienze magari all'estero o magari in posti molto diversi da quelli a cui siamo abituati e quanto è importante farle restando immersi in questa esperienza senza essere distratti dalla tecnologia e da tutto il resto? È una domanda retorica. Sarebbe necessario viverle offline per viverle al 100%. Però proprio, cioè, è un consiglio che tu daresti per dire vuoi un consiglio sulla sostenibilità? Ecco, il miglior consiglio che io posso darti è questo. Vai, immergiti. Non lo so, sto conoscendo la tua vita è una delle cose che io vedo questo. Eh, se mi baso sulle mie esperienze io l'ho fatto per me stesso. Poi ho deciso di condividerlo. Quindi c'era più consapevolezza quando ho deciso di condividere magari ciò che avevo imparato o ciò in cui credevo. Lo sai meglio di me che oggi giorno forse si condivide anche prima di sapere cosa si sta condividendo. Forse perché è giusto, sembra giusto, ma non non si hanno i mezzi, gli strumenti per comprendere cosa si sta condividendo. Ti direi che sarebbe perfetto se qualcuno se i ragazzi potessero fare un'immersione dentro questo tipo di esperienze offline per poi comprendere se hanno gli strumenti la consapevolezza di condividerlo con tutti. Così sarebbero dei portavoce responsabili. E adesso devo arrivare all'online invece perché faccio un mini salto temporale cosa succede? Giuse torna da questo primo giro del mondo con giusto delle foto che si condivideva con gli amici si sposa tua sorella a un certo punto colpo di scena ti trasferisci in Spagna quindi altro colpo di reni dalle tue scelte diciamo poco programmate ti trasferisci in Spagna e nonostante questa esperienza in Spagna ci vai non dico per un posto fisso però riprendendo dei binari abbastanza canonici cioè lavori sbagli sbagli totalmente allora il mio sogno era vivere a Barcellona mentre viaggiavo dicevo cavoli ma a Milano non ci voglio stare voglio andare a vivere a Barcellona però voglio vivere lì per sei mesi per mettere su un gruzzoletto e andare a vivere in Costa Rica in Costa Rica perché volevo lavorare nelle aziende di energia rinnovabile e sostenibile non avevo le competenze in realtà però speravo di poter avere non so un tirocinio poter partire veramente dal basso e poter acquisire queste competenze e lavorare in queste agenzie queste aziende il gruzzoletto non è mai arrivato perché in realtà a Barcellona cercavo di sbarcare il lunario facendo il barman perché mi sembrava divertente soltanto che io non avevo mai fatto il barman nella mia vita e sul curriculum avevo scritto che avevo esperienza ma quando andavo a fare il barman non sapevo neanche fare un mojito perché non sapevo fare niente e quindi venivo costantemente licenziato licenziato e quindi il gruzzoletto non arrivava e quindi poi sono rimasto a Barcellona per cinque anni dove di questi cinque anni ai fini della nostra storia ci interessa più di tutti forse l'ultimo anno anno e mezzo perché quello in cui o due questo fammi tu la finestra temporale perché è dove c'è davvero il primo video oggi del canale del progetto happiness è nato lì non era progetto happiness ma è nato lì sì allora sentivo a Barcellona che io non stessi rispettando la mia natura il mio spirito chiamiamolo così io mi ero fatto una promessa durante il giro del mondo io volevo una vita remarkable una vita degna di nota una vita per me degna di nota una vita che potesse farmi assaggiare tutti i sapori della vita potesse farmi mettere tutti i cappelli che una persona può indossare non lo stavo minimamente facendo perché avevo trovato veramente una sorta di posto fisso anche se guadagnavo 700 euro al mese per questo è importante perché ne parliamo spesso io e te sai c'è tanti ragazzi mi stanno ragazzi ragazzi mi scrivono sui social dicendo cavoli mi piacerebbe fare la vita che fai tu eh di lavori di lavori brutti di lavori duri ne ho fatti per arrivare a crearmi il lavoro che mi ha appassiona e dovevo chiamare ogni giorno centinaia di persone in Italia per proporgli delle conferenze delle conferenze che costavano migliaia di euro e non avevo neanche il computer dovevo scrivere tutto a penna su un foglio avevo quasi il telefono quello che giri con le dita era veramente un posto di disperati però era l'unica cosa che avevo trovato e mi faceva sopravvivere a Barcellona però lì incominciare a accendersi il fuoco io non ero quello io mi stavo accontentando stavo galleggiando e un giorno vado in palestra e vedo un ragazzo con un tatuaggio sul polpaccio che era una M con un puntino sopra non so se suona a qualcuno è il tatuaggio dell'Iron Man e l'Iron Man è il triatron più difficile dal mondo sono 3.8 km di nuoto 180 km di bici e 42 km di corsa e ovviamente pensavo fosse qualcosa da folli chi che essere umano può fare qualcosa del genere però per curiosità mi avvicino a questo ragazzo me lo ricordo benissimo era il 2017 e chiedo ciao sai ma vedo che tu hai fatto un Iron Man ho fatto i tre di Iron Man va bene ok calma ma così per curiosità ma pensi che una persona che non ha mai nuotato cioè non ha mai nuotato in maniera seria non è mai salito su una bici ha corricchiato può mai raggiungere può mai fare partecipare a un Iron Man ovviamente lui pensava stessi parlando di me mi squadra dalla testa ai piedi e mi dice no io torno a casa con le orecchie basse però non me lo doveva dire e così dico caoli in realtà all'inizio pensavo va bene ok io sicuramente non lo posso fare perché non ho le capacità fisiche devo trovare un pazzo che lo voglia fare perché questo può essere un documentario straordinario cioè immaginati trasformare una persona mediocre quindi un fisico mediocre l'uomo medio in uomo di ferro in Iron Man chiamo subito il mio amico Luca che era l'unico amico che avevo che sapesse montare e gli faccio senti Lu se io trovo un pazzo che vuole fare questa cosa tu poi mi hai io lo riprendo tutto il tempo tu poi me lo monti e fa sì ci sto partiamo chiamo chiedo incomincio però vedo che chi mai dovrebbe dirmi sì chi mai dovrebbe rovinarsi anni della sua vita per far l'Air Man una sera penso vabbè io comunque mi sto allenando tutti i giorni in palestra mi sveglio presto la mattina vado forse lo posso fare io e quindi chiamo l'unico amico che aveva fatto un Iron Man che conoscevo che mi volesse un minimo di bene e io dico Edu ma tu mi puoi allenare per 365 giorni per partecipare all'Air Man di Barcellona e mi fa tu eres un loco però lo vamos a ser che vuol dire sei un pazzo però ce la facciamo e così siamo partiti mi sono allenato tutti i giorni per 365 giorni più o meno tutti i giorni alla fine sono diventati veramente tutti i giorni e dopo 365 giorni ho partecipato all'Air Man e l'ho finito sopravvivendo addirittura incredibile non ci ho lasciato le penne quindi quella dedizione ecco la che torna esatto papà esatto è merito suo eh beh sì ha seminato bene sì 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 assolutamente e pensa che ci tengo tanto a dirlo che ogni giorno ogni mattina mi svegliavo e dice ma che cavolo ma perché perché sto andando a correre sotto la pioggia perché sto andando a nuotare in mare prima di andare a lavoro sto andando in bici dopo il lavoro non dormo era orribile perché beh io veramente volevo cambiare volevo veramente mettere i mattoncini per fare qualcosa di grande con la mia vita e l'Air Man me l'ha insegnato è stata veramente la metafora della vita o comunque la spinta l'elettroshock definitivo che poi mi ha mi ha dato la la sicurezza di poter veramente credere nei miei sogni eh e quindi è da lì che nasce il progetto Epens perché mentre mi allenavo tu immaginati quante ore di corsa quante ore di bici che poi diventa una meditazione perché sei lì che corri che nuoti che pensi per non pensare al dolore pensi ad altre cose e funzionava e pensavo cavolo il prossimo step questo questo progetto ah che poi chiaramente parlavamo dei social perché ho cominciato a farlo sui social per caricarmi io pubblicavo i video affinché poi i miei amici mi caricassero cioè ti fassero per me soltanto che poi questi amici sono diventati migliaia 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 ho detto cavoli però è bello raccontare storie però il next step dovrebbe essere sugli altri non su di me dovrei incontrare personaggi meglio di me che mi possono insegnare però cosa? e ho pensato che ciò che in realtà avrei dovuto imparare la cosa più importante da imparare per me e io penso per qualsiasi essere umano era la felicità e così è nato il progetto Epens un giro del mondo per 365 giorni in realtà questa era l'idea alla ricerca della formula della felicità intervistando i personaggi più straordinari del pianeta finito l'Ironman ho lavorato ancora per un anno in aziende sempre mettendomi soldi da parte perché all'inizio sono stato il mio primo sponsor ho autofinanziato chiaramente tutto e quindi per un anno ho messo i soldi da parte e ho preparato il progetto Epens facendo ricerca per tutto il mondo stilando una lista di persone interessanti per me da poter andare a intervistare chiaramente non mi seguiva nessuno sui social quindi le liste di persone erano molto lunghe perché io dovevo sfidare la statistica le probabilità arrivare negli Stati Uniti quindi per capire ma anche per dare proprio una una prospettiva molto concreta fai l'Ironman riprendi tutto intanto come te la cavavi a livello di video foto hai fatto corsi hai fatto qualcosa malissimo mamma mia mi ricordo che il primo video che ho fatto anche per le storie l'ho fatto in orizzontale e i miei amici mi hanno detto no non funziona così devi farlo in orizzontale devi farlo in verticale quindi ero un disastro ero veramente un disastro però ho avuto la fortuna di essere aiutato da Luca da questo amico che poi mi montava i video non dormivamo la notte perché entrambi lavoravamo mentre facevamo l'Ironman e quindi montavamo i video la notte se gli date un occhio sono molto grezzi però molto genuini molto reali e quindi nasce il progetto happiness io non voglio che ci soffermiamo su niente di ciò che hai fatto col progetto happiness perché tutto quello che Giuseppe ha fatto ovviamente molti di voi lo seguono lo conoscono hanno già guardato i video e si trova molto si intuisce molto dai reportage che fai però c'è una cosa su cui insomma a noi ci capita di chiacchierare spesso io me la rido ed è anche una delle frasi che ti sento dire di più dalle persone che ti fermano per strada che è ah no vabbè progetto mai Giuseppe ovviamente ah progetto happiness possiamo dirlo che mi chiamo Giuseppe diciamo mai Giuseppe progetto happiness ma tu no vabbè fai la vita dei sogni magari potessi farla anch'io e quindi la mia domanda in realtà che conosco molto bene dietro le quinte perché ne faccio parte è con la premessa che tu ti sei costruito il tuo lavoro dei sogni no e ogni lavoro ha delle luci e delle ombre nel in un bicchiere che ovviamente è mezzo pieno cioè quello che fai è bello ti soddisfa sei contento di quello che stai facendo però quali sono i sacrifici più grandi che tu pensi di aver fatto ma soprattutto che tuttora fai perché quando raggiungi un livello importante è sicuro che dei sacrifici li fai e questi sacrifici spesso non si vedono non so da dove partire ma chiaramente basta che guardi no non ho mai non ho mai dedicato così tanta passione lavoro sacrificio a una missione a un obiettivo chiaramente perché non è un lavoro per me si intreccia chiaramente con la mia vita ed è bellissimo perché in realtà mi sveglio la mattina pensando al progetto e mi addormento pensando al progetto però è straordinario perché ci sono così tante sfumature di ciò che facciamo che è sempre stimolante quindi pensare ai viaggi pensare alle persone da incontrare studiare poi adesso ho la fortuna di collaborare con persone molto più brave di me che mi aiutano a rendere il progetto sempre più più strutturato più solido e quindi è una sfida continua costante che mi piace vivere però i sacrifici sono tantissimi e tralasciamo il lavoro tralasciamo il fatto che passo tutto il giorno a lavorare sul progetto tutto il giorno ma i sacrifici personali che mi hanno permesso di arrivare a chiamarlo lavoro mi ricordo che durante il giro del mondo avevo molta paura perché vedevo che non stava decollando e quindi quella paura mi faceva pensare di mollare ma io mi ero dato un anno di tempo e ho detto come va va però a casa avevo anche delle persone che mi aspettavano delle persone che mi volevano bene delle persone che mi amavano quindi quando sono tornato dal giro del mondo mi sono scontrato con la realtà del fatto che il progetto potesse veramente diventare un lavoro perché con la Corea del Nord all'improvviso quella paura quasi svanisce viene placata perché vedo che i risultati stanno arrivando incominciano ad arrivare i followers che in realtà è una bella conseguenza non è mai stato il mio obiettivo però è la conseguenza necessaria per chiamarlo lavoro e con l'arrivo dei follower con l'arrivo dell'attenzione mediatica io ci mettevo sempre più impegno sempre più impegno senza accorgermene che stavo trascurando le priorità probabilmente di una persona che possono essere gli affetti la famiglia gli amici e quindi quando tu mi parli di sacrifici a parte il lavoro a parte le ore passate a lavorare ci sono le persone che ho perso durante questo percorso e lo dico con affetto anche ero fidanzato quando stavo facendo il giro del mondo e per concentrarmi così tanto con così tanta dedizione a questo progetto quella persona se n'è andata l'ho persa e io ero follemente innamorato io pensavo di sposarmi con quella ragazza però l'ho persa ed è stato un sacrificio che non avrei voluto non avrei voluto fare però è successo e anche la mia famiglia quando poi sono tornato in Italia mi ha confidato che avevo avevo diciamo trascurato l'amore l'affetto che si deve sempre tenere in considerazione come priorità gli amici quello è stato una grande un grande insegnamento che adesso cerco sempre di tenere a mente perché ho già pagato un gran prezzo per vivere questo sogno questo lavoro e adesso chiaramente ho ben chiari ben chiare le mie priorità e le tengo strette e salde cercando di condividere ciò che ho con tutti quanti ti farò l'ultima domanda che non è cos'è per te la felicità quella non te la faccio l'ultima domanda però si chiude il cerchio con sempre il tema della sostenibilità ambientale sociale e rimettiamo sul piatto i due obiettivi iniziali sul primo ci abbiamo provato a raccontarti dietro il personaggio spero si hanno emerse delle cose che insomma non avevi mai raccontato il secondo era il fatto di usarti come esempio di un ragazzo come tanti un ragazzo normalissimo come potrebbe essere chiunque in platea e di come tu abbia maturato il tuo pensiero e la tua consapevolezza verso questi temi e io ascoltandoti parlare davvero come spesso succede ho anche imparato delle cose che non conoscevo ho sentito la storia di una persona che almeno due volte si stava sedendo e poi ha dato un colpo di reni alla sua vita col primo viaggio del mondo ti stavi sedendo non ti piaceva colpo di reni sei ripartito poi ti stavi di nuovo risedendo progetto Liminis e oggi sei un uomo in missione per il progetto happiness che è il tuo sogno quindi la domanda che ti faccio è come quello che fai col progetto happiness pensi ti abbia migliorato come persona ti abbia dato più consapevolezza di far parte tutti di un sistema interconnesso con persone e con l'ambiente e appunto se questa cosa per te oggi rappresenta un pezzo di felicità totalmente devo veramente se i sacrifici sono stati enormi ciò che mi sta dando il progetto che in realtà è semplicemente la vita non posso che esserne profondamente estremamente grato se ti immagini quante persone ho incontrato nel mio cammino con quante persone ho incrociato il cammino quante persone mi hanno insegnato nuovi modi di vivere nuovi modi di essere felice li porto tutti con me sono un bagaglio che porto sempre con me quindi sicuramente ha trasformato ha stravolto la mia vita ha stravolto la mia persona in realtà sento un'evoluzione costante credo di fare mute a una velocità quasi troppo 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 alta però mi sta dando tutto mi sta dando la consapevolezza del mondo che mi circonda mi sta dando la capacità di comprendere l'altro questa è la cosa che mi affascina di più ora quando incontro soprattutto persone di altri paesi posso comprendere da che difficoltà arrivano posso comprendere da che culture da che tradizioni arrivano mi piace capire l'altro mi piace aiutare l'altro mi piace fondermi con l'altro e quindi mi piace sentirmi in comunità con l'altro però l'altro nei miei viaggi ho imparato che deve essere anche l'ambiente che mi circonda perché siamo anche quello e quindi dai miei viaggi ho imparato anche a rispettare nella maniera più profonda l'ambiente perché all'inizio ricollegandoci a ciò che mi hanno insegnato i miei genitori era semplicemente il rispetto dei doni della natura però la natura era natura e io ero un essere umano durante i miei viaggi soprattutto gli ultimi vivendo con i waurani nella foresta amazzonica facendo delle esperienze molto forti immerso nella natura ho compreso che in realtà la mia felicità passa attraverso la connessione con la natura e la connessione con la natura non può che che basarsi sul rispetto sulla protezione sull'esaltazione della natura e quindi in realtà mi fa piacere che tu abbia detto che io sia un ragazzo comunissimo come tutti quanti perché questa è la cosa più importante perché chiaramente oggigiorno sui social sembra che ciò che magari uno fa a un certo punto sembra inarrivabile impossibile invece sono io mi sento un ragazzo comune semplicemente che ci ha creduto e non mi interrompere che sto facendo il finale no scherzo e mi collego a questo perché qui stiamo parlando di sostenibilità soprattutto e io l'ho imparata durante il viaggio non sono stato sempre il guerriero della sostenibilità dell'ambiente l'ho imparata viaggiando e quindi chiunque di noi può diventare sempre più sensibile semplicemente esponendosi a ciò che la vita ci può regalare grazie 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 ragazzi grazie grazie